L'ermetismo è stata una corrente poetica, diffusasi in Italia a cavallo tra le due guerre mondiali, quindi tra gli anni 20 e inizio anni 40, ma soprattutto nel corso degli anni 30. Il centro dell'ermetismo fu soprattutto Firenze, dove troviamo anche alcune riviste letterarie che contribuirono molto al movimento, tra cui Solaria, Fronte Spizio e Campo di Marte. Il termine ermetismo fu coniato la prima volta dal critico letterario Francesco Flora, con la sua pubblicazione del 1936, Poesia ermetica. Però questo termine era usato in senso dispregiativo e significava qualcosa di chiuso, di oscuro, misterioso, enigmatico. Infatti il termine ermetico deriverebbe proprio dal dio Hermes, dio dei misteri, o Ermete Trismegisto, altro personaggio mitologico alquanto misterioso. Per cui le poesie ermetiche sono poesie brevi, ma di non facile interpretazione, e fanno largo uso di metafore, ma soprattutto di analogie, cioè figure retoriche cariche di molteplici significati simbolici, evocativi, suggestivi, che appunto non rendono facile l'interpretazione. Un esempio di analogia la possiamo vedere nella poesia all'isola di Giuseppe Ungaretti. Le mani del pastore erano un vetro levigato da fiocca febbre. Appunto, le mani del pastore erano lisce, quasi trasparente come il vetro, levigate da questa fiocca febbre che è il caldo e il sudore. L'ermetismo si ispira e si riallaccia al simbolismo francese, in particolare a Mallarmé, uno dei poeti a cui per esempio Ungaretti si ispirò di più, ma anche Verlaine, Rimbaud ed altri. La parola è scarna, essenziale, quindi si elimina ogni elemento decorativo, inutile e superfluo. La parola quindi è centrale e, nonostante la sua essenzialità, è ricca appunto di significati suggestivi ed evocativi. Un esempio di poesia ermetica possiamo prendere questa di Quasimodo, ed è subito sera. Ognuno sta solo sul cuore della terra, trafitto da un raggio di sole, ed è subito sera. Quindi vediamo nel primo verso la solitudine, nel secondo quei pochi momenti di felicità. La sera invece rappresenta la morte, che arriva improvvisa e inevitabile. Molto importante dire che è una poesia pura, cioè incontaminata, fuori dal tempo e dalla storia, e non ha alcuno scopo né celebrativo né educativo. Infatti questi sono gli anni del fascismo, della censura. Per cui i poeti o si schierano apertamente dalla parte del fascismo e lo celebrano, vedi ad esempio D'Annunzio, oppure dall'altra parte, come nel caso degli ermetici, si isolano completamente dalla realtà esterna, quindi non trattano eventi storici e politici del periodo, ma si isolano e si chiudono in questo mondo interiore. Il linguaggio è difficile e misterioso e sono poesie destinate a un pubblico d'élite. Per quanto riguarda i temi, sono soprattutto autobiografici. Centrale, infatti, è l'individualismo del poeta, con sentimenti come quelli di solitudine, morte, stati d'animo di sofferenza e di angoscia, ad esempio il male di vivere di Montale. Abbiamo detto che l'ermetismo è stato un movimento soprattutto degli anni 30, ma molti hanno visto in Ungaretti proprio l'iniziatore, il caposcuola di questa corrente poetica, proprio a causa di questo suo stile unico, con poesie brevi ma suggestive, evocative. L'altro poeta di riferimento fu Eugenio Montale. Invece a partire dagli anni 30 fino all'inizio anni 40, abbiamo Salvatore Quasimodo, che è quello più importante e studiato, vinse anche il premio Nobel, abbiamo poi Alfonso Gatto, Mario Luzzi e soprattutto Carlo Bo, che è considerato il vero teorico del movimento. Infatti nel suo saggio, letteratura come vita, traccia i fondamenti teorici e metodologici del movimento. E già dal titolo, letteratura come vita, ci dice proprio come la poesia può essere il mezzo migliore per conoscere se stessi, di arrivare a verità misteriose, profonde, e di cercare di tradurre con le parole ciò che con le parole non può essere espresso. L'ermetismo finirà definitivamente con la Seconda Guerra Mondiale. Infatti a partire dal 1945, molti di questi poeti, vedi ad esempio Quasimodo, abbandonano l'ermetismo e in un clima di ricostruzione dal punto di vista morale, politico, sociale e materiale del paese, mettono in campo appunto un maggiore impegno sociale e politico. Grazie a tutti.